Ben trovati all'informazione di TRMH24 in apertura alla decisione del governo italiano che ha designato il ministro per il Sud Raffaele Fitto come commissario dell'Unione Europea la decisione dopo il Consiglio dei Ministri per la Premier Meloni è una scelta necessaria Fitto si dice pronto a dare il suo contributo ovviamente una notizia accolta con particolare entusiasmo dei rappresentanti istituzionali del Mezzogiorno in particolare delle nostre regioni di Puglia e Basilicata Dopo Paolo Gentiloni l'Italia potrebbe avere un nuovo commissario nell'Unione Europea La scelta del governo è caduta sull'attuale ministro per il Sud del PNRR Raffaele Fitto designato ufficialmente a conclusione del Consiglio dei Ministri e la stessa premiera ad annunciare la decisione anticipando l'intenzione di comunicarla tempestivamente alla presidente Ursula von der Leyen Per Meloni la designazione dell'ex governatore pugliese è una scelta dolorosa anche per il governo ma è una scelta necessaria, una scelta che la Premier giudica delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni Dopo aver condiviso la designazione con gli altri leader della maggioranza la Premier, prima ancora del Consiglio dei Ministri ha chiamato la segretaria del PD Ellie Schlein, il numero uno del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte Da parte sua Fitto ringrazia per la fiducia ricevuta e si dice pronto a dare il proprio contributo Subito dopo la designazione il gruppo di Fratelli d'Italia in Regione Puglia si è congratulato con Fitto augurando al ministro Salentino buon lavoro Lo attenderà un compito arduo, spiegano gli esponenti di Fidi Pugliesi visto il particolare momento storico che l'Europa sta vivendo e per il ruolo che l'Italia assume nel quadro generale la nomina, concludono, è un motivo di orgoglio per la Regione Complimenti a Fitto sono arrivati anche dal presidente dell'Anci, Roberto Pella Sono sicuro, dice che nel lavoro in seno alla Commissione UE non mancherà di riservare la giusta attenzione alle istanze dei comuni dando seguito all'ottima collaborazione sviluppata con Anci sin dalla sua nomina nel governo Meloni Pella si dice anche certo che il governo italiano gestirà al meglio il passaggio di consegne delle importanti deleghe di cui il ministro Fitto è stato competente titolare E adesso ci occupiamo del crollo di uno stabile in pieno centro a Latiano nelle scorse ore, vediamo Crollo nella notte a Latiano in provincia di Brindisi di un edificio di due piani che al suo interno ospitava un supermercato nella centralissima via Francavilla Il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle 3.40 del mattino probabilmente partito dal crollo di due o tre piloni del piano terra Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco con squadre ordinarie e squadre speciali come ci spiega il vice comandante dei Vigili del Fuoco, Franco Bungaro La probabile causa è ancora in corso di accertamento Si ipotizza un cedimento strutturale di due o tre piloni del piano terra Il piano terra è una struttura voltata, con volte, resumo a crociera In attesa di poter approfondire questi accertamenti stiamo sorvolando l'aria con i nostri droni per avere una visione d'insieme anche dall'alto, anzi soprattutto dall'alto e poi vedremo di intervenire con l'autoscala se c'è da rimuovere ancora parti di imminente pericolo Tutte le informazioni raccolte finora, dalle telecamere alle testimonianze fanno escludere la presenza di vittime feriti Nelle prime ore del mattino si era parlato della possibilità che il crollo fosse dovuto a una bomba Tuttavia sono considerazioni che la polizia giudiziaria accerterà una volta terminata la fase dei soccorsi Uno spettacolo terrificante è quanto dichiara il sindaco di Latiano, Mino Maiorano che si è recato sul posto non appena allarmato dal comando dei carabinieri di Latiano Sì, questa notte erano esattamente le 4.28 e io sono stato svegliato da una telefonata da parte del comando dei nostri carabinieri, dei carabinieri di Latiano informandomi che c'era stato un crollo su un immobile insistente nella centralissima via Franchevilla Logicamente immediatamente mi sono recato sul posto e c'era uno spettacolo veramente terrificante perché l'intera struttura immobiliare si era, possiamo dire, si era cartocciata su se stessa 19 smartphone e 1000 euro in contanti sono stati ritrovati nell'appartamento di due presunti ladri a Galatina e furti probabilmente sono stati eseguiti sulle spiagge nel corso di questa estate Due uomini residenti a Galatina sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione Nella loro casa sono stati ritrovati 19 smartphone e 1000 euro probabilmente rubati in zona Baiaverde a Gallipoli Si tratta di un uomo di 43 anni e di un 26enne trovati in possesso anche di documenti e carte di pagamento anche questi probabilmente rubati in località Baiaverde I due individui sono stati scoperti perché una giovane galatinese ha denunciato di aver subito il furto di telefono e danaro di notte sulla spiaggia I poliziotti hanno individuato l'appartamento in cui era finito lo smartphone grazie a un'applicazione installata sullo stesso telefono Perquisita quell'abitazione gli agenti hanno trovato anche gli altri smartphone oltre a documenti e soldi tutti riconducibili a furti compiuti probabilmente da luglio Parte dell'area furtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari sono in corso accertamenti per identificare le restanti vittime di furti Adesso torniamo a parlare di danni di maltempo in questo caso quanto è accaduto nelle scorse ore in Valdagri in Basilicata in corso ancora la conta dei danni Un violento temporale accompagnato da Grandine ha colpito alcuni comuni dell'alta Valdagri causando numerosi disagi e disservizi per la comunità locale La pioggia incessante si è abbattuta tra il pomeriggio e la serata di giovedì 29 agosto comportando uno stato di paura in alcune abitazioni allagamenti, rallentamenti di traffico oltre ad alberi e rami spezzati e tombini saltati Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che nei vari centri si sono mobilitati per gestire l'emergenza e ripristinare la circolazione nelle aree maggiormente colpite Un'importante frana si è verificata sopra Marsico Vetere in direzione di Calvello parte del terreno infatti ha ceduto provocando una situazione di allerta per la viabilità e per la sicurezza Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ancora in corso di valutazione Anche la realtà di Vigiano impegnata in queste ore nei festeggiamenti per la Madonna Nera patrona della Basilicata ha subito numerosi disagi limitati dal pronto intervento del comune e degli organi competenti La situazione è stata ripristinata, ancora stamattina ci sono piccole cose da fare ma si è lavorato tutta la notte in maniera molto veloce anzi ne approfitto per ringraziare un po' tutti gli operatori i dipendenti del comune di Vigiano, la protezione civile di Vigiano con altri volontari e collaboratori tutti i miei collaboratori e amministratori abbiamo lavorato davvero tutta la sera e abbiamo ripristinato è stata una vera e propria bomba d'acqua che nei giorni prima della festa non ci voleva perché stavamo mettendo a punto e stavamo appellendo Vigiano al meglio con i migliori servizi però non ci siamo scoraggiati e siamo ripartiti con entusiasmo ma già la situazione da ieri sera nonostante la gravità dell'evento era sotto controllo con alcune ditte che sono riusciti subito a riaprire, a ripristinare le strade in particolare la strada della montagna grande di Vigiano che porta proprio al santuario su a 1700 metri e cambiamo ancora argomento prende il via il Tremiti Music Festival la manifestazione giunta alla sua settima edizione che unisce musica e bellezze naturali il concerto di Nada Duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra ha aperto la settima edizione del Tremiti Music Festival l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia assessorato al turismo con Puglia promozione teatro pubblico pugliese e il consorzio regionale per le alti e la cultura in collaborazione con il comune delle isole Tremiti e con il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano propone quattro voci femminili per celebrare ancora una volta il connubio tra la musica e la natura nello scenario incontaminato delle isole Tremiti la prima serata si è svolta in piazza Pertini isola di San Domino un live intenso nel quale Nada accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola jazz blues senese ha proposto brani come il Porto di Livorno la popolare ma che freddo fa e grandi successi come amore disperato ti stringerò e i classici della tradizione popolare come Maremma i di Rotta su Cuba sono i protagonisti invece della seconda serata venerdì 30 agosto il duo presenta il brano che li ha portati al successo che quest'anno compie 30 anni era il giugno del 1994 quando una band sconosciuta dal nome esotico ed affascinante uscì in radio col brano Gelosia i di Rotta su Cuba con il loro sound unico e inconfondibile inaugurarono così il periodo più acid jazz e funk che l'Italia abbia mai avuto infine sabato 31 agosto sempre in piazza Pertini la chiusura del festival è affidata a Malika Yan la cantautrice milanese che con la sua inconfondibile voce ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award quattro Wind Music Awards un premio Lunezia e un premio Roma Videoclip e vanta collaborazioni con tra gli altri Andrea Bocelli, Francesco De Gregori Cesare Cremonini e Caterina Caselli tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti Molfetta intanto si avvicina alla festa patronale del 7, 8 e 9 di settembre in onore della Madonna dei Martiri una tradizione costante che avvicina i fedeli alla festa patronale del 7, 8 e 9 settembre in onore della Madonna dei Martiri di Molfetta è iniziata il 29 agosto la novena in preparazione alla festa predicatore della novena quest'anno è stato Fra Antonio Coccia che attraverso la sua predicazione ha aiutato i fedeli ad incrociare lo sguardo della Madre Celeste è in questo percorso di novena, in questo cammino che faremo cercheremo un po' a partire dalla parola del giorno a partire dal Vangelo che ascolteremo cercheremo di mettere in luce quelli che sono gli aspetti della fede concreta di Maria è come noi possiamo vivere secondo il suo modello per essere testimoni della fede ogni giorno di novena è dedicato a un tema in particolare venerdì 30 agosto si pregherà per la gente di mare ma non mancheranno i momenti dedicati ai molfettesi nel mondo agli emigrati, alle famiglie, ai giovani e anche ai malati la giornata di venerdì dedicata alla gente di mare vede la partecipazione delle associazioni marinaresche della città e la benedizione del mare a conclusione della celebrazione eucaristica la festa entrerà nel vivo con l'incoronazione della Madonna durante la Santa Messa del 7 settembre presieduta da Fra Alessandro Mastromatteo ministro provinciale dei frati minori di Puglia e Molise e con la tradizionale Sagra Mare dell'8 settembre da oggi iniziamo questo cammino in preparazione alla festa della Madonna dei Martiri nove giorni che ci vedranno impegnati insieme come comunità nel vivere tutto questo tempo, questo spazio di preghiera permetteremo a molti di sentirsi protagonisti attraverso le giornate tematiche la città di Molfetta si anima portando nel cuore la gioia per una festa carica di significato per i molfettesi e per tutti coloro che la portano nel mondo E adesso lo sport, il calcio di Serie B domani alle 18 il Bari affronta fuori casa la Sampdoria E una vigilia nel segno del mercato dell'attesa di quegli ultimi rinforzi chiesti più volte a gran voce da mister Moreno Longo e dalla tifoseria ad attendere il Bari nella quarta giornata di andata del campionato di Serie B e la Sampdoria è reduce dall'esonero di Andrea Pirlo ma il pensiero non può che andare alle ultimissime trattative Longo in conferenza stampa prepartita evidenzia come il mercato sia stato lungo ed estenuante e come adesso la volontà sia di concentrarsi sul campo intanto sono già arrivati Simic, Lella e Falletti Simic è un giocatore che ha grande fisicità un giocatore di esperienza un giocatore che può darci questo tipo di caratteristica Lella è un giocatore di quantità in mezzo al campo nell'ultimo periodo ha giocato anche a due Nasce Mezzala ma aveva giocato anche con Di Francesco ultimamente a due quindi ci darà qualche centimetro un po' di forza, un po' di corsa a inserimento, a qualche gol nelle sue caratteristiche e Falletti è quel giocatore comunque di fantasia di uno contro uno, di imprevedibilità nella zona di attacco Forte dei tre nuovi innesti il Bari è pronto ad affrontare la Sampdoria Marassi consapevole che il cambio di allenatore potrebbe aver cambiato gli equilibri dei blucerchiati Troveremo un avversario forte un avversario molto motivato un avversario che cercherà davanti al proprio pubblico di invertire questo inizio di stagione e soprattutto un avversario chiamato a dare una risposta caratteriale Il Bari a caccia dei suoi primi tre punti è chiamato dunque a un salto di qualità Dobbiamo lavorare con molta più attenzione soprattutto nei dettagli nei dettagli quelli singoli di attenzione su palle inattive su dettagli di tattica individuale quindi in questo sicuramente c'è da migliorare I tifosi sperano anche nell'esplosione degli attaccanti Lasagna e Novakovic per i quali, secondo Longo, ci sono ottimi margini di crescita Secondo me possono avere ancora ampi margini di miglioramento Primo perché l'intesa tra di loro naturalmente è solo all'inizio quindi possono assolutamente conoscersi meglio e migliorare quelli che sono i tempi e gli spazi che loro devono occupare e soprattutto deve migliorare quella che è la loro condizione E ci fermiamo qui Grazie come sempre per l'attenzione Arrivederci